Buongiorno, 6 gennaio 2019, Campopasso, mi trovo in Viale Marconi, sono le 9.50, e da ieri sera ha smesso di nevicare. Le strade sono pulite. Fa ancora freddo, ci sono 0 gradi. Qui siamo a Largo San Leonardo, questa è la chiesa. Siamo in pieno centro storico, qui c'è il presepe. Tra l'altro, questo bambinello nei giorni scorsi è stato distrutto letteralmente da qualche ben pensante. Infatti adesso si vede che è stato rincollato e forse anche riverniciato. La stupidità umana non ha mai fine. Questa è la cattedrale e questa è la situazione. Cumuli di neve, dopo tre giorni di nevicate abbastanza intense. Qui siamo a Villetta Flora. Ci sono i pesciolini mezzi congelati, poveretti. Qui siamo lungo il corso di Campopasso. E questa è Piazza Municipio. Abbastanza sgombera, da neve anche alla piazza. Ecco le immagini di questo bell'albero di Natale posizionato dinanzi al Municipio di Campopasso. Ecco il presepe realizzato all'interno di questa fontana. Presepe che ha preso spunto da uno dei misteri del di Zinno. Molto carino. Ringrazio tutti per la visualizzazione. Se vorrete iscrivervi al mio canale basterà cliccare in basso a questo video sulla voce e iscrivetevi. Se poi il video vi sarà piaciuto cliccare sempre in basso al video sul pollice in su. Grazie a tutti ancora per la visualizzazione al prossimo video. Ciao e buona Epifania a tutti.